La bufera è altro è l'inizio della lettura e parafrasi e commento della primavera itleriana. La bufera è altro. Il male di vivere è colto stavolta nella sua dimensione storica e rispecchia la bufera della guerra mondiale. Infatti, come ben ricordiamo, questa raccolta poetica, pubblicata nel 1956, è una raccolta che contiene sia delle poesie pubblicate clandestinamente durante la guerra sotto il titolo di Finisterre, sia delle poesie scritte in seguito e che hanno evidentemente già nel titolo, già ci fanno capire, che la storia irrompe. La storia, nel senso, le vicende della guerra, in sostanza, perché è evidente che la guerra è rappresentata con questa bufera, qualcosa che ha travolto l'Europa, ha travolto l'intero mondo, si può dire, una guerra mondiale. Una guerra che abbiamo detto ha ispirato, come vedremo in questa poesia, ha ispirato alcune poesie di Montale, a differenza della prima guerra, che pure lui aveva vissuto in prima persona come sottotenente. Quindi nel 1943 pubblica le poesie di Finisterre clandestinamente, ma poi la pubblicazione della bufera è altro, è nel 1956. La bufera è altro, però. Ciò vuol dire quindi che non c'è solo questa tematica. Ci sono, appunto, vi dicevo, queste liriche d'amore per Clizia. Propriamente, cioè proprio mentre, scusate, ho letto male i miei appunti, proprio mentre tutta la cultura spingeva un impegno politico militante, però c'è da ricordare che il nostro Eugenio Montale scriveva le sue poesie per Clizia, cioè per Irma Brandeis, le sue poesie più metafisiche, insomma, che però non sono alla ricerca di un rifugio intimistico, ma per denunciare un'ennesima ferita dolorosa. E' una tensione, diciamo così, una tensione verso qualcosa che sia lontano, decisamente lontano, come vedremo appunto in questa poesia della primavera itleriana, rispetto al presente così gretto, così misero, così desolante della guerra. Però è una raccolta poliedrica questa, perché appunto accanto a queste poesie, dicevamo, di Clizia, Finisterre, eccetera, ce ne sono altre che riguardano invece l'Italia dell'immediato secondo dopoguerra e quindi che esprimono la sua sfiducia totale nei confronti della politica. Lui che all'inizio aveva aderito al partito d'azione, sicuramente al Comitato di Liberazione Nazionale Fiorentino, e poi al partito d'azione che era di ispirazione liberale, con una certa spinta e anche un certo entusiasmo, e che poi invece si trova all'inizio del secondo dopoguerra di fronte a un'Italia di partiti contrapposti di ispirazione popolare e non liberale, quali appunto il fronte popolare, da una parte la democrazia cristiana dall'altra, che fagogitano, diciamo così, qualsiasi altro tipo di espressione politica. E infatti sostanzialmente il partito d'azione andrà ad esaurirsi. E lo stesso Montale deciderà di far parte a sé, di non dedicarsi più assolutamente alla politica. Quindi rifiuta anche il ruolo che, invece in questo periodo, come vedremo un po' anche con Pavese, Calvino e Pasolini, il ruolo dell'intellettuale impegnato, che è prevalente in quest'epoca, che poi sarà anche l'epoca del neorealismo. E quindi esprime un esercizio della coscienza dei tempi, cioè di una coscienza intellettuale che, come vedremo, si è mantenuta assolutamente indipendente nel periodo del fascismo, ma che continua a esserlo, continua a essere autonoma, indipendente, anche nel periodo successivo. E quindi questo riflusso nel privato. Compaiono in questa raccolta dei segnal. Segnal è un termine di origine provenzale, che sta a indicare quindi che la donna amata non è chiamata direttamente, ma attraverso un pseudonimo, attraverso un'immagine. Per esempio, Irma Brandeis, in queste poesie di Finisterre, eccetera, comunque nelle poesie della Buffera e altro, viene chiamata Clizia. Come vedremo c'è infatti Clizia anche nella poesia della primavera itleriana. E rappresenta, è complessa la cosa, chi è concretamente Irma Brandeis? È un intellettuale ebrea americana che è venuta in Italia, a Firenze, proprio a Firenze, per studiare Dante, perché è una dantista. Ora, il rapporto con Montale è un rapporto che viene sublimato in queste poesie, tanto che questa Clizia viene presentata quasi come una donna angelo, in un certo senso, perché rappresenta un'altezza intellettuale della cultura, della poesia. Infatti, questo personaggio, tra l'altro, di Clizia, è un personaggio che è stato trasformato in girasole da Apollo, ha a che vedere con Apollo, e Apollo è il dio della poesia. Quindi, rappresenta proprio un'altezza intellettuale della cultura che si differenzia rispetto alla desolazione della guerra, del fascismo, del nazismo contemporaneo. Con delle cadenze, con dei richiami dantisti, stinnovisti, eccetera, che hanno come punto di riferimento Dante. Anche se, ovviamente, la prospettiva filosofica e ideologica è completamente diversa rispetto a quella di Dante, giusto? Perché per Dante tutto quanto c'era la reduxio ad unum, tutto quanto comunque poi convergeva su una unità di fondo. Mentre invece Montale rappresenta sempre comunque una complessità, la complessità che non può essere ridotta ad unità. Poi però, nelle poesie della bufera e l'altro, compare un'altra donna, che è tra l'altro una poetessa, che si chiama Maria Luisa Spaziani, con un segnal diverso, un soprannome diverso, che è quello di Volpe. Quindi abbiamo varie donne, poi vedremo la prossima volta, cioè domani parleremo della mosca, che è Drusilla Tanzi, che poi diventerà moglie di Montale. Ma Volpe, tra le varie donne di Montale, rappresenta l'eros, cioè l'antibiatrice, cioè rappresenta la donna sensuale. E quindi il rapporto con questa donna, con questa poetessa, è tutto giocato su aspetti molto più carnali. E questo è, dicevamo, l'immagine della Volpe. Quindi, quali sono le conclusioni provvisorie di questa raccolta poetica? Quindi, si arriva ad un pessimismo radicale, a una totale sfiducia nei confronti di qualsiasi idea di cambiamento, di miglioramento della società, di senso della storia, proprio negli anni in cui si parlava del sole dell'avvenire, il sole che sorge, infatti poi diventò l'emblema del partito socialista, no? Il simbolo del partito socialista. Proprio in quegli anni in cui si pensava, finalmente, dopo la liberazione di poter creare una società nuova, giusta, lui invece si riconosce estraneo a tutto, anche estraneo alle nuove ideologie che hanno sostituito quella vecchia del fascismo. Estraneo a qualsiasi chiesa, sia la chiesa rossa, sia la chiesa nera. Cioè, quindi, sia la chiesa dei preti e dei sacerdoti, che portano avanti una visione providenziale, finalistica, insomma, che non può assolutamente condividere. Sia però la chiesa rossa, lui dice che il comunismo, quell'epoca, allora si presenta quasi come una nuova chiesa che si vuole sostituire a quella precedente. No, invece lui, anzi, pensa proprio che sia vicino a imminente una catastrofe, e che la terza guerra mondiale è proprio la dimostrazione che l'uomo si può distruggere, cioè si può autodistruggere, e che magari lo farà, lo farà molto presto. E quindi si sente chiuso, quindi chiuso fra le ideologie, vuole affermare una sua identità, che è un'identità sempre intellettuale, culturale, di non appartenenza. Sente di non dovere, di non volere appartenere a nulla, se non a se stesso. E queste sono le conclusioni. Dal punto di vista stilistico, la bufera è sempre su una linea alta, diciamo così, di poesia. Cioè, non sarà la poesia così un po' colloquiale, prosastica, di Satura e delle ultime raccolte. Anzi, vedremo, leggeremo proprio domani, una poesia molto intensa, molto ricca, come la primavera hitleriana. Però c'è una differenza, c'è una maggiore adesione alla realtà, e se nelle occasioni la poesia era indecifrabile, perché il poeta non diceva gli spunti del testo poetico, qui invece è abbastanza chiaro a che cosa si riferisca. Abbiamo già detto che irrompe la storia e quindi non parla più solamente di ricordi personali, come avveniva nelle occasioni. E così anche lo stile diventa un po' più vario, ecco, quindi rispetto alle occasioni abbiamo un maggiore plurilinguismo. Quindi ritornano un po' anche alcuni termini più prosastici e realistici, che invece nelle occasioni, nell'occasione abbiamo una poesia più, diciamo, un po' più pura, invece nell'occasione non avevamo visto. Quindi ritorna ancora il prosaico che avevamo visto anche negli ossi di seppia. Ritorna un po' a cozzare l'aulico col profano, più o meno come negli ossi di seppia. Quindi ritorna un po' a quello stile lì, sostanzialmente, nella bufera. Comunque è anche molto vario, ecco, ma sicuramente non è tutto prosastico, come vedremo, o colloquiale, come vedremo nelle ultime raccolte di Montaigne. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org.news